Con Mr. Bianchini al termine della prima giornata della Pol Scudetto, San Giuliano-Sitinova, FC Arzignano-Valchiampo, 3-0 risultato finale per la squadra di casa. Mr. Ripercorriamo la partita. Una partita che si sono incontrate due squadre forti, vincitrici dei campionati rispettivi. Si è vista la differenza soprattutto di energie fisiche e mentali. Noi abbiamo tirato fino all'ultimo secondo e loro hanno vinto il campionato, sono più freschi sia mentalmente che fisicamente. È un'ottima squadra, potevamo fare meglio, abbiamo preso gol subito per un approccio un po' rilassato. Ci sta anche dai, veramente ci tenevamo a fare meglio però non posso rimproverare assolutamente nulla i ragazzi perché anche oggi comunque nelle difficoltà hanno provato a fare tutto quello che era nelle loro possibilità e quindi accettiamo il risultato e teniamoci buono tutto il resto che abbiamo fatto. La seconda giornata di questo triangolare che appunto ha dato il via alla Polscudetto è in programma per mercoledì allo stadio del Molin, FC Arzegnano Valchiampo, Novara Calcio. Dobbiamo affrontarla bene, nella maniera giusta. È l'ultima partita in casa, o è l'ultima in teoria, è l'ultima partita in casa della Nata, ci teniamo a far bene. Dobbiamo raschiare il fondo del barile, quel poco che ancora c'è ma dai, i ragazzi hanno mille risorse e sono convinto che la partita seria la facciamo. È tutto qua. Mister, grazie mille, buon lavoro. Grazie a te.